Gli anni 90 C'era un tempo in cui la panella andava di moda Hanno rappresentato i disagi della loro generazione Un tempo in cui tu sonavi più di famosi E c'è il boom, uff, che le miglia Un tempo in cui il sesso era un affare di stato It's a new day! Un tempo in cui il passato è ancora presente Gli anni di Vascorosi sono stati in una del mio... Il primo episodio tutto dedicato all'Italia Gli anni 90, dal 22 settembre alle 20.55 Sul National The Great Channel Grazie a tutti!